I carabinieri di Vigo d'Arzere hanno arrestato un 44enne che ha aggredito violentamente la moglie procurandole delle ferite alla testa. Per l'uomo, che vive a Cadoneghe, è stato disposto anche l'allontanamento dall'abitazione che condivideva con la consorte. Entrambi sono di origine romena. La donna è stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, dove le sono state riscontrate ferite e giuricate guaribili in nove giorni.